Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Il primo appuntamento della stagione televisiva 22-23 Del caffè di TRG è dedicato allo sport, al calcio, al derby Di fatto all'avvicinamento al derby Per la precisione che si disputerà domenica alle 16.15 Alle Liberati tra Ternana e Perugia Due squadre che peraltro dopo un inizio non certo semplice Vengono da un sabato davvero di grande orgoglio e gioia Per due vittorie che entrambe hanno ottenuto con modo diverso Ma comunque entrambe con grande soddisfazione E che proiettano verso la partita di domenica prossima Sia Perugia che Ternana sicuramente con nuovo spirito E parliamo proprio di ciò che sarà il derbissimo Umbro del Liberati Per quanto riguarda quella che sarà anche la sesta giornata di Serie B Con due firme illustri, le possiamo chiamare così Che seguono da vicino Perugia e Ternana Pietro Cuccaro di Umbra TV Buongiorno Pietro Buongiorno Giacomo, buongiorno ai tuoi telespettatori E Gianni Giardinieri che invece è di On TV E che seguiamo sempre anche sulle nostre frequenze Con che calcio vuoi? Buongiorno Gianni Buongiorno Giacomo, buongiorno ai tuoi telespettatori E allora prima di colloquiare con Pietro Cuccaro e Gianni Giardinieri Che vediamo ora qui inquadrati per l'appunto su Perugia e Ternana E in vista di quello che sarà poi Ternana-Perugia di domenica prossima Cominciamo proprio dalla formazione bianco-rossa Che sabato ha ottenuto la prima sofferta, bisogna dirlo Vittoria stadionale dopo un punto in quattro partite Superando l'Ascoli che peraltro aveva otto punti in classifica Era ed è ancora in zona play-off in quest'inizio di campionato Per 1-0 al Curi Sentendo anche uno stralcio della conferenza stampa post-gara di Mister Castori Perugia-Ascoli al Curi per la quinta giornata di Serie B All'undicesimo Marchigiani pericolosi con Bidawi che si mette in proprio E calcia, Gori respinge Al trentatresimo punizione battuta velocemente da Luperini Che pesca il movimento in profondità di Di Carmine Che tutto solo davanti a Bauman calcia incredibilmente fuori Al quarantesimo è Gondò a provarci sul primo palo Ancora Gori e attento Un minuto dopo cross da destra col contagiri di Casasola Strizzolo dimenticato dalla retroguardia bianco-nera Con un gran mancino al volo trafigge Bauman per il vantaggio bianco-rosso Che chiosa anche la prima frazione Nella ripresa il grifo potrebbe raddoppiare dopo nove minuti Ma Kwan spreca un succoso contropiede sparando alto Un minuto dopo ancora Perugia Casasola mette forte in mezzo per Di Carmine Chiuso da Bauman Nel recupero Gondò cade una prima volta in aree dopo un contatto con Melchiorri Ma si gioca E ancora l'ex Salernitana va per le terre al limite dopo l'intervento di Kwan Per l'arbitro Piccinini di Forlì è solo calcio di punizione anche dopo il C'è Calvar Punizione che non porta benefici all'Ascoli Primi tre punti per il Perugia Attesora al derby con la Ternana Gli uomini si riconoscono nelle difficoltà Nei momenti in cui tutto lo bene sono tutti bravi Quando le cose vanno male è che bisogna sapere uscire da Non bisogna lasciarsi un po' prendere dalla emotività del momento Cercare di mantenere la giudità Io dico sempre i problemi arrivano Piuttosto che piangere perché arrivano i problemi Meglio stare svegli per risolverli prima possibile Questo è un po' un mio motto per come affronto la vita, le cose, la professione Gli uomini si riconoscono nelle difficoltà Queste le parole di Fabrizio Castori, Pietro Cuccaro Che di là delle parole anche del direttore sportivo Giannitti Della scorsa settimana che di fatto proteggevano il lavoro del Perugia e del suo staff La panchina traballava dopo il punto in quattro partite Anche in vista di quello che sarà il derby del Liberati La vittoria con Lascoli non sarà una panacea assoluta Però può essere un palliativo per provare a ripartire Insomma, sì, proteggeva l'allenatore fino a un certo punto Perché Giannitti si lasciò anche scappare Un Castori deve trovare la soluzione Soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva Che era il reparto, la fase di gioco che preoccupava di più Se non altro in relazione al gioco di Castori Che conosciamo tutti Ovvero quello di una squadra solida, quadrata Abile nelle ripartenze in verticale Invece quello che aveva restato maggiore preoccupazione Era proprio il fatto che Perugia prendeva gol in modo banale Sempre uguale, spesso in contropiede Addirittura da calcio d'angolo a favore O da fallo laterale a favore Qualcosa si è visto contro l'Ascoli Sono stati tolti dalla formazione I due che finivano in Itch Si dice a Perugia Quindi Wulic e Wulic Difensore centrocampista Non c'era Angella Una difesa un po' più quadrata Dell'Orco riportato sulla linea dei tre difensori Ed era uno degli equivoci tattici di questo inizio di stagione Con l'ex Sassuolo che era stato provato anche sulla fascia sinistra A centrocampo è stato inserito Bartolomei E' stato confermato Luperini che si è confermato fra i migliori Insomma una squadra un po' più quadrata, un po' più solida Una vittoria alla Castori si potrebbe dire Eh sì, una vittoria alla Castori Diversa è stata quella della Ternana Che comunque ha gioito al Tardini di Parma Una squadra che ha visto peraltro esordire in stagione anche un mostro sacro come Gianluigi Buffon Tra i pari che ha preso tre gol proprio dalla Ternana Che ha rimontato proprio la formazione Ducale Prima di andare da Gianni Giardinieri Allora vediamo quanto è accaduto al Tardini tra Parma e Ternana Sentendo anche qui le dichiarazioni post-gara in sintesi di mister Lucarelli E poi torniamo Parma-Ternana al Tardini per il quinto turno di Serie B Ducali arrembanti nella prima mezz'ora E al trentunesimo da cross d'inglese Diachite chiude servendo però involontariamente del Prato Che trafigge di destro al volo Giannarilli per il vantaggio parmenze Si passa alla ripresa e sin da subito la Ternana cambia passo Quarantasettesimo Palumbo fa correre a destra Mantovani Palla bassa sul secondo palo dove sbuca Cullibaliche di puro opportunismo Impatta il computo del match Tre minuti dopo però Basquez slalomeggia in area rosso-verde E serve un cioccolatino che inglese di sinistro deposita in rete per il 2-1 Parma Minuto 66 Cross di Corrado da sinistra Clamoroso Errore di Romagnoli che di fatto confezione un esiziale assist prelibato per Donnarumma Freddo nel battere Buffon per il nuovo pareggio Fere Chiede un fuorigioco la compagine Emiliana ma il VAR da ragione alla Ternana ed è 2-2 Ottantacinquesimo minuto Palumbo vede l'inserimento di Corrado che con una perfetta virata elude la marcatura di Del Prato E fuori equilibrio estrae un sinistro in diagonale Che supera nuovamente Buffon per il definitivo 3-2 Ternana Le Fere salgono così a quota 7 e si preparano per il derbissimo di domenica prossima a Liberati E' la lezione che abbiamo imparato l'anno scorso Perché noi l'anno scorso dominavamo tutti O perlomeno molte squadre le abbiamo dominate E poi mancava sempre uno per facendo Perché magari non riuscivamo a vincere determinate partite Pur facendo grandi prestazioni Creando più dell'avversario Però poi alla fine in questa categoria trovi squadre abituate a soffrire Che sono molto ciniche Che si difendono con tutti gli effettivi dietro linea palla Direi che questa è un po' la lezione che abbiamo subito l'anno scorso A noi ci è servita tanto Perché, ripeto, noi ci aprivamo Eravamo belli da vedere Tutti all'attacco 8 uomini sempre oltre linea palla Però poi gli altri con tiro in porta Vincevano le partite O con una ripartenza vincevano le partite Quindi il fatto, questa consapevolezza Consapevolezza di non dare mai per finita una partita di Serie B È quella che ci ha tenuto in piedi fino in fondo Rimarcando che se il Perugia ha qualche problemino fisico e di condizione di alcuni sui elementi La Ternana aveva di fatto fuori sette potenziali titolari al Tardini Però anche, parafrasando un po' le parole di Lucarelli, Gianni Giardinieri Da quando la Ternana ha vinto quel campionato strepitoso in Serie C Dunque dall'inizio della nuova avventura in Bilo scorso anno Sembra esserci sempre questa dicotomia amletiana Tra l'apparire o l'essere E di solito quando, come ha detto Lucarelli La Ternana appare di meno ed è di più Fa risultato Questo almeno dice il campo Sì, siamo d'accordo È proprio così La Ternana quando riesce a, come dire Inmeresimarsi nel campionato di Serie B Che è un campionato in cui conta molto l'essere in partita Avere la giusta concretezza Rimanere comunque corti, stretti Allora ottiene risultati Quando invece cerca soltanto il caccio e champagne Fatto di, a volte anche leziosismi Va in crisi Il Bancomat, Parma, lo chiamo così L'ha portato bene anche stavolta Perché c'è da dire che nelle ultime tre partite abbiamo sempre vinto contro il Parma Addirittura ci sono delle coincidenze molto curiose Perché lo scorso anno alla quinta di campionato vincemmo 3-1 contro il Parma E al ritorno al Tardini Sempre l'anno scorso abbiamo fatto 3-2 Quindi 3-2 lo scorso anno 3-2 quest'anno Quando la Ternana gioca contro squadre aperte Che riescono, come dire Che hanno voglia di giocare a caccio Fa sempre bella figura Quando trova invece squadre chiuse Come ad esempio il Cosenza O altre squadre Che hanno come obiettivo Come diceva Lucarelli Soltanto quello di mettersi dietro la linea della palla Allora diventa molto più complicato La formazione del nostro verde Ha più difficoltà a viscerare le sue manovre di gioco Però la Ternana è così Dall'era Lucarelli Prendere o lasciare È una squadra che segna moltissimo Però subisce anche molto E quindi va accettata per com'è Come hai detto tu Gianni E tra i protagonisti mancanti Gianni Beh c'è da rimarcare come di fatto Il potenziale Anche qui usiamo questa parola Attacco titolare Era fuori Perché Falletti Che dallo scorso anno Sta vivendo un suo calvario personale Partipilo e Favilli Che per ora il minor marcatore stagionale Erano tutti out Speranze di rivederli Domenica prossima Almeno qualcuno di loro Beh allora Può darsi che Favilli dovrebbe rientrare Sembra soltanto un affaticamento muscolare Quindi non ci dovrebbe essere problemi Falletti ha uno stiramento di primo grado Quindi di solito i tempi di recupero Sono due settimane Quindi siamo proprio lì Probabilmente non sarà dagli 11 titolari Però potrebbe andare in panchina Ricordiamo che il stesso Falletti Viene anche dall'operazione Allegamento crociato Per cui Sono passati soltanto 7 mesi Da quell'operazione E il rientro Che non è stato affrettato Però poi porta sempre Delle conseguenze secondarie Da un punto di vista muscolare Per quanto riguarda Partipiro Dovrebbe esserci Anche se non è partito neanche per Parma Quindi vedremo Mentre invece I lungodeggenti Pettinari Piuttosto che Martella Non saranno Credo sicuramente Del match E queste sono assenze Naturalmente come hai detto Dei Importanti Perché Tra l'altro La domanda Al Tardini di Parma Probabilmente perde per il derby Anche Raul Moro Il giovane Presso in prestito Dalla Lazio Che anche lui Dovrebbe aver riportato Un problemino muscolare Quindi E per domenica Sarà veramente Un'emergenza totale In avanti E sì Mentre per il Perugia C'è apprezzione Per la condizione fisica Lo stato di salute Di Strizzolo Due gol Già in campionato Per l'attaccante Arrivato dalla Cremonese Il colpo grosso Diciamo così Dalla Cremonese Sarebbe dovuto essere Di Carmine Che per adesso invece Ha un po' deluso Pietro E invece Strizzolo È diventato una certezza Per questo Perugia Era il centramanti Che voleva Castori Lo ha detto Abbastanza esplicitamente Io credo che non ci sarà Per il derby Perché ha accusato Un problema Muscolare E sappiamo quanto Siano delicati Soprattutto all'inizio stagione Questi tipi di infortuni Credo Che la migliore notizia Per il Perugia In vista della Ternana È proprio perché Affronta la Ternana Che Gianni Che saluto Ho salutato anche A microfoni spenti Lo saluto anche A microfoni accesi Ha sottolineato Insomma Pregi e difetti Delle fere E proprio questo modo Di giocare Di Lucarelli Insomma Ben si confà Allo stile Castori La peggiore notizia Per la Ternana Sia il fatto Che Perugia Abbia ritrovato Questa solidità Di cui parlavo prima Credo che Strizzolo Non ci sarà Di Carmine Non ha segnato Ma è sembrato Abbastanza in palla Due giorni prima Che si pietesse La sua trattativa Con il Perugia Era in campo A San Siro Quindi è allenato E credo che proprio Di Carmine Possa essere Diciamo Il punto di riferimento In avanti A Terni Non so Magari con Juan Che spesso Nella fase Di preparazione Al campionato Era stato provato Accanto a Melchiorri Per la moria Di attaccanti Che aveva avuto Il Perugia Durante la preparazione Anche perché Credo che Castori Non tocchi Il centro campo Che ha trovato Finalmente Una sua squadratura Con questo Bartolomei Che diciamo Ha preso in mano L'Eretini Nel ruolo di regista Sostituendo Un Buric Apparso Diciamo Un po' fuori Dal contesto di gioco Con Luperini Nel ruolo di Mezzare Con uno fra Santoro E Iannoni Dall'altro lato Insomma Accanto a Bartolomei Con Juan Che incredibilmente Si ritroverebbe fuori Dalla formazione titolare Ricordiamo che era stato Fino alle ultime ore di mercato Vicinissimo Alla Cremonese Uno dei pezzi pregiati Della Perugia Uno dei pochi Con cui Santo Padre Poteva fare Qualche plus valenza Si ritroverebbe ancora Una volta fuori Dalla formazione E anche per questo Probabilmente Castori potrebbe Riciclarlo come Diciamo Seconda punta Di rottura Un derby Dunque Così Giocato anche Tatticamente Si potrebbe Giocare così Tatticamente Sentendo proprio Le parole di Gianni e Pietro Ma un derby Che sappiamo Oltre la tecnica La tattica Le strategie Anche tanto di Emotivo ed emozionale Dunque volevo sentire Prima Pietro E poi Gianni Anche su Come sta vivendo L'ambiente Queste settimane Di avvicinamento Una partita che peraltro Arriva molto presto In calendario Considerando che si è Iniziato prima di Ferragosto Già con la prima Giornata Pietro E' vero che Questa vittoria Un po' abbia Risollevato gli animi Però anche nell'ambiente Perugino Dopo L'ottimo campionato Scorso Culminato con I playoff E anche Il fattore Dell'allenatore Alvini Che è andato in Serie A Insomma Testimonianza Dell'ottimo lavoro Svolto a Perugia Credo che La tifoseria Si è rimasta In queste prime giornate Ancora un po' Scottata Da come è iniziato Questo nuovo campionato Del Perugia Ah senza dubbio Più che scottata Delusa direi Delusa Sfiduciata Sfiduciata Per certi versi Disinteressata Che è una notizia A Perugia Sappiamo tutto Insomma Quanto sia calda La tifoseria Perugina Complici anche I lavori Alcuri Che insomma Non hanno favorito Gli ingressi Il clima Il clima è un po' Freddo Devo dire la verità C'era tanta fiducia In Castori Che qui è molto simpatico Se non altro anche per la vicinanza geografica Lui è mattigiano Ma c'era già qualche mugugno Per le cose che ti ho detto prima Inevitabilmente La vittoria con l'Ascoli Non ha risolto i problemi E non ha Diciamo Tolto quella patina Di dubbio Su Castori E' inevitabile Che il derby Sarà decisivo Da questo punto di vista Per come finirà la partita E per come sarà affrontata La partita Dal Perugia Gianni Giardinieri Un'altra piazza Sicuramente sotto questo punto di vista Piuttosto umorale E che spesso segue anche gli umori Del suo presidente Stefano Bandecchi E quella della Ternana Bandecchi che anche recentemente Beh ha alzato un po' la voce Sia per quanto riguarda i risultati Soprattutto dopo la brutta sconfitta Di Modena Ma anche un po' per i progetti collaterali Soprattutto quello legato Allo stadio clinica Sappiamo che da lì passa anche tanto Di quello che è il futuro sportivo Ma non solo Proprio della Ternana Calcio Sì sì Il presidente Bandecchi E' un vulcano Come sapete bene Ama esternare Spessissimo Su Instagram Ed è Come dire Sempre fuori dei denti Nelle sue dichiarazioni Quindi Rassenta sempre il filo Della soglia E' un personaggio Meglio così eh Meglio così Che sta zitti come Santo Paolo Ah sì sì Ma noi abbiamo avuto una gestione Sei Pietro Di almeno 15 anni Con Longarini Che era sostanzialmente Mutismo Fatto uomo Quindi Spesso non sapevamo neanche La composizione aziendale Non sapevamo praticamente nulla Di quello che ruotava intorno Alla Ternana Con la gestione Bandecchi E' esattamente Il contrario E' vero quello che diceva Giacomo Contribuisce il presidente Un po' a far salire la febbre Positivo e negativo Nei confronti della società E della squadra La Ternana E' una di quelle realtà Che ha bisogno Di uno stadio E Il presidente Vorrebbe semplicemente fare A supporto Come dire Economico Dell'operazione Una clinica Per dare la possibilità Poi Truttando le gestali Di sostenere economicamente Il progetto Naturalmente poi lì Ci saranno tutte Le considerazioni Del caso Sia da un punto di vista Politico Che amministrativo E immagino anche Ovviamente Giurisdizionale Però E' evidente che Da questo punto di vista Lo snodo fondamentale Dello stadio Nuovo stadio E della clinica Come dire Daranno una forte impronta A quello che sarà Il futuro della società Rossoletti Anche se Il presidente Ha sempre detto Che Lui Ha come obiettivo Quello di portare La Ternana In serie A A prescindere Dalla realizzazione Di questo progetto Non a caso Sta chiudendo Penso a settimane La realizzazione Del nuovo Impianto Dalla società Sportivo Cosiddetto Ternanello Che verrà realizzato In una bellissima zona Della città E che prevede Tre campi da calcio Foresteria E tutto quanto Occorre Per una società Professionistica Il progetto E' stato Praticamente realizzato L'area E' stata Affistata E dovrebbero partire I lavori Nel giro di Pochissime settimane Quindi E' importante Quel discorso Il progetto Stadio Clinica Ma non è Fondamentale Perfetto Questo un po' Per fare il quadro Anche Sulla Ternana E su ciò Che sta accadendo Siamo davvero In chiusura Ci sarebbero Tantissimi aspetti Da analizzare Ricordando che Lo scorso anno Il computo Nel derby Fu 4 punti Per la Ternana E 1 per il Perugia Perché si fu un pareggio All'andata E la vittoria Per 1 a 0 Della Ternana Al ritorno Con gol di Donnarumma Ma alla fine Ai playoff Ci andò il Perugia E non la Ternana Dunque vedremo Se questa partita Potrà cambiare Qualcosa Dal punto di vista Sia pratico Che emotivo Per quanto riguarda Poi il cammino Di Perugia E Ternana Si gioca come detto Domenica Alle 16.15 Al Liberale E Rati Ternana Perugia Io ringrazio tantissimo Pietro Cuccaro Di Umbria TV Grazie mille Pietro Per essere stato con noi Questa mattina Grazie Giacomo Grazie a te Tuoi degli spettatori Saluto Gianni Ti faccio i complimenti Per il suo lavoro A un TV Che apprezziamo molto Qui a Umbria A televisioni Sia dal punto di vista Giornalistico Che tecnico E se mi concedi 10 secondi Per ricordare La rassegna stampa Di Umbria TV Ogni sera Da lunedì Al venerdì Il lunedì In particolare Visto che c'è fuori campo Dopo mezzanotte Con le prime pagine Poi ovviamente Passiamo la linea a voi Che approfondite Fino alle 12 Con le pagine interne Assolutamente Grazie per averlo ricordato E ringrazio chiaramente Anche Gianni Giardinieri Che troveremo Sempre Anche su TRG Con Che Calcio Vuoi Approfondimento Talk Show Per quanto riguarda La Ternana Grazie mille Gianni Mi saluto anch'io Ciao Pietro Ci vediamo Penso a Liberali Ciao Ciao Giacomo Mi fa piacere Collaborare anche a me Con voi Con tutti voi È sempre un piacere Grazie ancora E dunque vedremo Chi la spunterà O se la spunterà qualcuno Domenica prossima Alle 16.15 Alle Liberati Ternana Perugia Grazie a voi Che ci avete seguito Anche per questo primo Appuntamento del caffè Vi ricordo stasera I nostri TG Sera 19.30 e 20.30 Alto Chiascio 19.50 20.50 Alto Tevere Alle 21.15 Torna fuori gioco Per quanto riguarda L'approfondimento Sul Gubbio Calcio E sulla Serie C Grazie a tutti E buon proseguimento Di mattinata E chiaramente Buon inizio Settimana Grazie a tutti